nella zona di villa focchiardo pare si aggiri uno spettro dalle sembianze femminili un testimone racconta addirittura di essere riuscito a toccarlo racconta che non aveva consistenza e appena l'ha toccato è scomparso come una nuvola di fumo nella zona di casal monferrato un testimone racconta che nel lontano 1970 incontrò per la strada una figura femminile la donna con grandi occhi azzurri chiese un passaggio all'automobilista con un semplice pretesto lo convinse a cambiare strada e fatalità in quell'istante nella strada opposta dove dove andare l'automobilista si verificò un incidente mortale che uccise diverse persone l'automobilista rimase di shock quando all'improvviso la figura di fronte a lui scomparne egli stesso ringrazia a tutt'oggi quella misteriosa figura che non se ne conosce ancora l'identità nel castello di molina testimoni raccontano di aver visto una strana figura sembrerebbe proprio quella di una dama che pare che si aggiri nelle sale del castello per sedersi appena scorge una sedia e scompare appena qualcuno la sta osservando a ponzano di monferrato sembra che di notte compaiono strane figure intente a giocare a carte alcuni testimoni dicono di averli visti comparire dal nulla nella piazza centrale antistante la chiesa le figure sarebbero gli spiriti di cittadini di un tempo che si trattenevano fino alla notte proprio a giocare a carte